Ha tracciato un bilancio della campagna elettorale e dei risultati ottenuti Salvatore Micone, primo eletto nella lista di Fratelli d'Italia, un bilancio che gli stesso ha giudicato ampiamente positivo. È stato un risultato enorme, insomma, che mi soddisfa, mi riempie davvero di orgoglio, mi fa onore di quella che è stata la risposta dei cittadini molisani rispetto al lavoro che ho svolto in questi cinque anni. Lei ha cambiato partito in corsa, no? E quindi si è candidata con Fratelli d'Italia, però il risultato è stato sempre importante, come se lo spiega? Sì, c'è stato, diciamo, questo cambio di partito fatto all'ultimo momento, però comunque veniva da una interlocuzione ormai di qualche settimana, che avevo direttamente con i vertici del partito nazionale, c'era questa interlocuzione con Giovanni Donzelli, e quindi è arrivata proprio negli ultimi giorni. Però credo che sono stato ripagato proprio del lavoro fatto, del contatto proprio diretto con le persone. Poi in questo momento è ovvio che Fratelli d'Italia ha tirato molto, quindi anche questo per me sicuramente è stato un valore aggiunto. Adesso si aspetta la proclamazione degli eletti e poi si parte. Quali sono le priorità? Insomma, ci sarà una pausa estiva, secondo lei? Allora, ci sarà questa proclamazione, io mi auguro davvero in pochissimi giorni, in modo tale che da lì scatteranno, come previsto dal regolamento, le tre settimane per convocare il Consiglio e quindi l'insediamento della nuova legislatura. Io credo che ci si debba mettere a lavorare, insomma, in maniera veloce, veloce, veloce. Quest'anno sarà una pausa davvero estiva ristretta, forse a una settimana, perché c'è un'incompensa urgente che è quella dell'approvazione del bilancio, ma non solo, c'è da lavorare, c'è voglia di dare delle risposte immediate al territorio e ai cittadini molisani e soprattutto dobbiamo immediatamente creare questa interlocuzione diretta con il Governo centrale per cercare di avere quelle risposte forti che il Molise attende da anni e adesso c'è una squadra, c'è un Presidente che è bravo perché ha nelle sue armi sicuramente la concretezza, la determinazione che appartiene a un Sindaco e quindi sicuramente ha voglia di dare delle risposte che mancano e tanti si aspettano.